Intanto la prima cosa, avete ascoltato Maurizio Lupi, le sue sono state parole di un uomo in gamba, onesto, sincero, per bene, concreto, che ha dimostrato di che basta sono fatti gli uomini del nuovo centro-destra che hanno il coraggio e la dignità di assumere le responsabilità che competono loro e anche quelle che loro non competono quando questa situazione di responsabilità serve per mandare avanti ciò in cui credono ed è questa la lezione essenziale di ciò che ha fatto Maurizio ed è esattamente questo quello di cui io voglio parlarvi, le cose in cui crediamo. Io vi prego di leggere il discorso che ieri Maurizio ha fatto in aula o di trovarlo sul web e ascoltarlo e di vederlo perché è stata una grande lezione di stile, una grande lezione di dignità politica, una grande lezione di forza morale da parte di un uomo che crede in qualcosa e che ha voluto fare esattamente ciò in cui crede.